buona giornata amici benvenuti bentrovati alla rassegna stampa di fanu tv oggi è mercoledì primo marzo 2023 vediamo qual è subito il santo del giorno abbiamo cominciato con un minuto di ritardo però insomma lo recuperiamo subito il santo del giorno di oggi è sant'albino di angers vescovo vissuto tra il quinto e il sesto secolo durante la vita albino compì molti molti miracoli lottò contro i matrimoni incestuosi allora molto frequenti nelle grandi famiglie fu delegato al concilio di orlean e organizzò la chiesa in gaglia fu un grande organizzatore ma fu un grande fedele uno che visse una vita molto morigerata diede l'esempio di se stesso a quelli che voleva convertire sant'albino di angers ed ora passiamo alle previsioni del tempo vediamo che su tutta alla regione marche i cieli si mantengono nuvolosi ecco vediamo qui la grafica nuvolosi o coperti con deboli piogge in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco quindi nel pomeriggio le condizioni del tempo peggioreranno sono prevesti 23 mm di pioggia il mare è mosso e le temperature si aggireranno tra gli 8 e gli 11 gradi ciò detto passiamo alla rassegna stampa e vediamo subito l'apertura al corriere adriatico che ci informa di un grave incidente che si è verificato ieri nel tardo pomeriggio intorno alle 19 sulla via flaminia all'altezza di cucurano travolto da un'auto davanti alla nipotina l'incidente appunto a cucurano grave un 71enne che aiutava la piccola a salire nel suo veicolo che era parcheggiato al lato della strada ma in quel momento è arrivata una ypsilon una lancia ypsilon che lo ha travolto e per fortuna per fortuna diciamo non ha toccato minimamente la bambina lui però è versa in gravi gravi condizioni tanto che doveva essere e doveva intervenire l'eliambulanza però questo non è stato possibile ed è stato portato in urge con urgenza a bordo di un'autobulanza del 118 all'ospedale santa croce al pronto soccorso dove è stato subito posto in rianimazione insomma era ricoverato in codice rosso le sue condizioni dicevo sono gravi è stato subito intubato sul luogo sono recati gli agenti della polizia locale di Fano i vigili i vigili del fuoco no scusate il 118 e la polizia locale di Fano per così fare le indagini risalire alle motivazioni di questo grave incidente invece i vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di ieri sempre sulla autostrada 14 all'altezza di Marotta dove si è verificato uno spettacolare incidente che ha coinvolto due camion a causa di un tamponamento è stato quindi difficoltà di transito nella careggiata nord per un tamponamento tra due tir uno dei quali trasportava veicoli un camionista di 50 anni di Salerno è stato portato all'ospedale regionale illeso l'altro autista di 38 anni originario della provincia di Potenza ristretto una corsia il traffico verso nord e vigili del fuoco di Fano sono intervenuti appunto per così diciamo ripulire tra virgolette tutta la corsia ed ora passiamo alle altre notizie vediamo come ci sono novità per quanto riguarda il pagamento della Tari ovvero della tassa sulla raccolta dei rifiuti se ne parlerà in consiglio comunale la prossima settimana Tari avanzo di bilancio per contenere l'aumento la giunta stanzia 550 mila euro dell'avanzo di bilancio del 2022 per contenere il costo della della tassa quindi ci saranno degli aumenti limitati potevano essere di più per quanto riguarda le famiglie solo uno 0,17% mentre addirittura per le imprese c'è una diminuzione della tassa dell'1,15% dell'1,10% insomma si cerca di contenere questi aumenti che vanno al rialzo a causa si sa le fonti energetiche insomma tutto il resto che inquina tra virgolette sempre la nostra economia quindi una bella notizia ne parla anche il presidente dell'ASET Paolo Reginelli ed ora qui vediamo invece una truffa una truffa che è stata compiuta ai danni di un fanese di 64 anni aveva pagato dei corsi di specializzazione per allevare gamberi in realtà gli attestati che riconoscevano il superamento di queste elezioni erano falsi non volevano nulla corsi online per allevare gamberi sborsa 5.000 euro ma è una truffa un biologo a giudizio per attestati di profitto ritenuti falsi nella trappola un fanese di 64 anni dunque paga più di 5.000 euro per seguire online vari corsi sull'acqua ponica marina per l'allevamento di gamberi giganti ma in cambio dice l'accusa riceva solo falsi attestati carta straccia assunque non valgono nulla a livello propedeutico lavorativo insomma non è un titolo di merito che può far valere è semplicemente un attestato fatto di suo pugno dice sempre l'accusa dal biologo che ha realizzato questi corsi quindi non è un'autorità riconosciuta la vicenda è emessa ieri in aula davanti al giudice luca zampetti imputato con l'accusa di truffa e un biologo amministratore di una società che si occupa di consulenza e servizi nei settori dell'acqua ponica e dell'acqua cultura e vedremo come andrà a finire poi sempre per quanto riguarda la giudiziaria il corriere adriatico ci informa sulla requisitoria delle pm in merito a un traffico di coca durante il quale sono stati per il quale sono stati chiesti 28 anni di cacere in auto con mezzo chilo di cocaina i tre minorenni erano due signore che sono state fermate durante il loro transito con l'auto al casello dell'acqua 14 e particolare di non poco conto era che a bordo c'erano appunto tre i minorenni probabilmente i ragazzi erano stati fatti salire a bordo per occultare ancora di più il pacchetto di droga che queste donne trasportavano l'indagine si è allargata e tramite intercettazioni gli investigatori hanno rintracciato poi tutti gli altri cinque imputati in tutto per questa vicenda passiamo ora a Fossombrone dove si parla della banca di credito cooperativo del Metauro che ha evidenziato il proprio bilancio fa parte del gruppo Icrea ed è stata inserita tra le 89 banche solide la direttrice Mariani segnala ai lusinghieri risultati ottenuti a vantaggio del territorio e poi vediamo invece a San Lorenzo in campo fotovoltaico finanziamenti per lo stadio e la biblioteca il comune riceve dal ministero 140 mila euro con l'aiuto di Enereco il primo è di 85 mila euro a fondo perduto ha dichiarato il sindaco dell'Onti per gli spogliatoi dello stadio comunale mentre il secondo contributo 55 mila euro servirà per la biblioteca in questa seconda struttura gli interventi consisteranno nell'installazione di un impianto fotovoltaico a tetto che alimenterà un nuovo sistema termico a pompa quindi ci saranno meno spese ma anche più calore ed ora vediamo la pagina di Senigallia dove aggiungono i primi contributi in denaro e quindi finalmente un provvedimento concreto ecco il titolo acquaroli per le vittime dell'alluvione ecco i primi 96,7 milioni di euro del ministero destinati a comune famiglie e imprese il governatore dice è una trance dei 400 poi devono arrivare anche gli altri stanziati dal governo dunque accreditati ieri dal MEF i primi 96,7 milioni di euro destinati a comuni famiglie e imprese tutti quelli che sono stati colpiti dall'alluvione del settembre scorso un mese fatidico per il nostro territorio dove quando si sono verificati veramente lutti e rovine si tratta della prima parte dei 400 milioni stanziati dal governo ha detto il presidente acquaroli che consentiranno la ripartenza di queste comunità ci sono poi i ringraziamenti per coloro insomma non è che sono stati molto tempestivi però insomma sapendo come vanno le cose nella burocrazia italiana si può dire che i tempi questa volta sono stati sì lunghi ma abbastanza contenuti a paragone di altri tempi che sono prolungati molto molto di più ebbene comunque è un importante risultato un importante risultato a fronte di uno stanziamento mai previsto in passato per una calamità distruttiva come quella che ha colpito le marche i fondi accreditati serviranno per ristorare per intero i comuni per le spese sostenute per l'emergenza erogare ai privati e alle imprese le prime misure di sostegno economico con un'anticipazione di 5.000 euro per i privati e di 20.000 euro per le imprese dunque qualcosa comincia a arrivare per cercare di risollevarsi a Fabriano invece mancano spazi medici e infermieri SOS profili tagli all'attività chirurgica il sindaco ha chiesto un incontro all'azienda sanitaria territoriale ma non c'è nulla di fatto soffrono in questo momento ma non solo a Fabriano pronto soccorso e il reparto di pediatria ebbene sono tante le criticità della sanità marchigiana e ora il Corriere punta la sua lente di ingrandimento su quanto sta accadendo a Fabriano. Vediamo anche qualche notizia di Pesaro dove si parla del cascone il cascone è quel grande casco di Valentino Rossi che è stato posto in piazzale d'annunzio a Pesaro ora la piazza si fa più bella tanto verde e vista libera sul mare in titolo il Corriere Adriatico approvato il progetto esecutivo di 500 mila euro per il piazzale d'annunzio il cantiere partirà ad aprire vogliamo vedere un rendering di questo progetto? Lo vediamo sul resto del Carlino in prima pagina eccolo qua, guardate è un bel progetto qui vediamo il casco di Valentino Rossi, qui il piazzale con questa bella rotatoria un bel rondo il progetto di riqualificazione con tanto verde vediamo il titolo, piazzale d'annunzio sarà così intorno al casco di Vale cambia tutto il Comune pubblica il progetto che modifica l'area molto più verde spazio per gli spettacoli estivi i lavori inizieranno ad aprile e la fine è previsto nel mese di giugno quindi a ridosso dell'estate il simbolo del campione di Tavuglia sarà solo spostato appunto per permettere l'esecuzione dei lavori e poi posizionato in questo punto rispetto all'estetica di tutto il piazzale vediamo ora ancora sul Corriere Adriatico le altre notizie l'apertura su Pesaro è data per quanto riguarda l'emergenza idrica si è parlato di tante volte nei giorni scorsi di siccità di arsura per quanto riguarda soprattutto l'economia agricola del nostro territorio ora è arrivata la pioggia ma insomma la pioggia da una parte non basta dall'altra fa i danni piove, resta l'emergenza stop alle dispersioni idriche il presidente di Marche Multiservizi lancia l'allarme in provincia cala la portata delle sorgenti c'è anche difficoltà per l'apprivigionamento delle risorse dell'acqua potabile appunto delle risorse idriche creare una rete locale con piccoli invasi diffusi è il suggerimento della Col di Retti che presenta un progetto cantierabile e poi qui c'è la storia di Filippini sotto vediamo Michele Filippini che presenta le sue coltivazioni di carattere orticolo mercato delle erbe il mercato delle erbe di Pesaro è in procinto di essere ristrutturato le bancarelle devono spostarsi spostarsi crea sempre dei problemi ma sembra che in questo caso una soluzione condivisa sia stata trovata infatti i sei bancarelle troveranno posto in negozi sfitti del centro storico e Ipaso, il rappresentante della Confesercenti precisa che la nuova sede per le bancarelle prevede il riuso di vetrine in abbandono quindi da una parte si riqualifica un edificio che insomma al momento non viene utilizzato e quindi potrà essere così esteticamente valorizzato per i prodotti che verranno esposti e dall'altra invece si offre un'alternativa efficace ai commercianti ambulanti lavori allo stadio progetto pronto a giugno per la copertura finanziaria della tribuna Prato l'assessore Pozzi ammette stiamo cercando i fondi quindi si sta lavorando alacremente per valorizzare anche il Benelli abbiamo parlato del cascone di Valentino Rossi quindi giriamo ancora la pagina e parliamo di un problema che ancora rimane quello di trovare lavoro il problema ha due aspetti da una parte ci sono ditte che non riescono a trovare il personale adatto alla loro attività dall'altra ci sono persone che cercano lavoro e non la trovano ebbene per cercare di conciliare questi due aspetti vediamo che si è trovato da parte della Confartigianato una soluzione nel realizzare un portale online un protocollo d'intesa firmato che vede coinvolti più enti proprio per sostenere l'occupazione attraverso il portale www.confartigianato.net si risponde all'esigenza di fare incontrare imprese e lavoratori e con il protocollo si sancisce l'impegno di promuovere lo stesso strumento quindi un accordo tra diversi enti per cercare appunto di combinare chi cerca lavoro con coloro che lo offrono e non lo trovano insomma abbiamo diverse istanze che potrebbero essere combinate con questa iniziativa e poi quest'altra pagina invece abbiamo un personaggio che è noto per quanto riguarda la polizia, il commissariato, la questura di Pesaro Urbino si tratta di Marco Lanzi che è il sindacalista del SIULP un personaggio che è noto anche tra i giovani perché è intensa la sua attività fatta nei confronti delle scuole per così insegnare ai ragazzi le misure contro il bullismo e anche sulla dipendenza dei social insomma bullismo e cyberbullismo in modo particolare sono due settori con i quali Marco Lanzi ha cercato sempre di insegnare ai ragazzi un senso critico soprattutto dei valori etici per evitare questi sconfinamenti ebbene va in pensione, va in pensione ma rimane sempre segretario provinciale del SIULP e quindi continuerà la sua battaglia per avere un incremento di organico per quanto riguarda il commissariato di Fano quello di Urbino e la questura di Pesaro e soprattutto cercherà di dare migliori condizioni di lavoro appunto ai suoi soci, ai suoi amici picchiano la buttafuori che tenta di separarli due giovani a processo uno risarcizia la vittima l'altro si prende anche quattro mesi e a fare le spese di questa notizia è stata una buttafuori una buttafuori sì perché era una signora una steward a servizio di un locale questa ha denunciato ha denunciato due persone una delle quali le avrebbe sferrato pugni sul corpo e al volto centrando addirittura il naso un colpo che le ha provocato la frattura del setto che i sanitari dell'ospedale le hanno giudicato guaribili addirittura in 30 giorni e quindi questa storia è finita in tribunale vediamo ancora altre notizie per quanto riguarda Pesaro anzi no, passiamo ad Urbino eccola qua, allarme dato da un agricoltore negli anni tanti sversamenti si tratta della discarica di Calucio che ieri è stata discussa in consiglio regionale c'è stata una interpellanza di Marta Ruggeri capogruppo del Movimento 5 Stelle anche in cancellieri in regioni segnala la serie non più tollerabile di incidenti a Calucio quindi cancellieri della Lega e Marta Ruggeri dei 5 Stelle hanno segnalato appunto questi problemi questo percolato che scende dalla discarica di Calucio e deve essere arrestato vediamo anche il problema della Contessa che sta per essere oggetto di lavori e quindi la strada sarà interrotta ieri c'è stata anche una presa di posizione dell'assessore al turismo del Comune di Fano Etienne Lucarelli un incontro costruttivo quello sulla Contessa ha detto Lucarelli che deve portare ad una risoluzione diversa sottolineando l'impegno che l'assessore regionale Francesco Baldelli ha profuso per ridurre i lavori a solo 8 mesi erano di più originariamente Lucarelli sostiene che non è sufficiente a limitare i pesanti danni che questo territorio subirà la riduzione dei lavori occorre fare di più perché poi i danni li sopportano gli operatori turistici in quanto il flusso di traffico che dovrebbe arrivare nelle coste marchigiane nella provincia di Peso Rubino viene dirottato poi a sud delle Marche e quindi gli alberghi e i ristoranti del nostro territorio soffriranno quindi occorre dare delle provvidenze a coloro che sopporteranno i danni maggiori ha detto Lucarelli vediamo anche la pagina di Fano del resto del Carlino dove si parla della caserma Paolini e del suo utilizzo un argomento che ha così caratterizzato fiumi di parole in molti molti anni in passato carabinieri, uffici sanitari e socialità queste le nuove prospettive per l'impiego della caserma Paolini l'ex caserma Paolini si fa in tre con l'inserimento dell'edificio nel piano di valorizzazione di Emaniale si dovrebbe io dico si dovrebbe quindi si sblocca io dico si dovrebbe sbloccare una partita anche per il Comune e la Regione c'è a questo proposito una dichiarazione del Sindaco Massimo Seri ci sarà una bella piazza forse con parcheggi addirittura sotterranei vediamo qual è l'utilizzo della caserma Paolini secondo il De Manio ebbene il Corpo Centrale quello che prospetta Viale Gramsci dovrebbe essere affidato al Comune quello Nord invece dovrebbe ospitare la nuova caserma dei Carabinieri quello Sud invece dovrebbe essere affidato alla Regione per concentrarvi tutti i servizi sanitari che ora sono sparsi un po' in diversi palazzi della città ebbene è un bel progetto che poi venga alla luce e qui si fanno addirittura dei tempi e quindi la situazione potrebbe essere piuttosto concreta vediamo cosa dice il resto del Carlino a portare sotto i riflettori questo complesso di 17 mila metri quadrati nel cuore della città è stato lo stesso De Manio che ha inserito il recupero nel piano di finanziamento 2022-2027 nelle strutture statali regionali quindi ci dovrebbero essere soldi per realizzare quanto ho detto nel piano che va dal 2022 al 2027 il 2022 è già trascorso siamo nel 2023 ebbene ci sono ancora alcuni anni per così sezionare dilazionare le risorse per realizzare poi ci sono tutti i tempi burocratici insomma ci sarà ancora del tempo per vedere la caselma utilizzata l'importante è che si cominci il sindaco Massimo Seri è ottimista invece ci sono polemiche per quanto riguarda il nuovo cantiere della Wider che sta sorgendo nell'area della cantieristica nel porto di Fano cantiere Wider un gigante al porto ha nascosto tutta la visuale c'è chi si lamenta perché non si vede più l'orizzonte ovviamente un cantiere che sorge occupa gran parte del visuale verso Pesaro e quindi viene danneggiata alcuni dicono anche la passeggiata del disippo altri invece dicono no no quella è una struttura utile perché dà lavoro a tante persone poi incentiva il settore della cantieristica che è ridiventato un settore leader della economia fanese ci sono diversi giudizi in merito a questo nuovo progetto ne parla Claudio Razzi in maniera negativa per quanto riguarda la lupus in fabola poi c'è l'avvocato Antonio Secli portavoce dei residenti di Via Dante e Leghieri Giorgio Roberti l'architetto Enrico Cipriani che fa parte del Consiglio Comunale di Fano e poi il Conte Lupo Bracci ci sono diversi giudizi in merito a questa vicenda ma noi qui ci fermiamo perché terminato il nostro tempo a disposizione vi lascio a voi il piacere di leggere le altre notizie dei giornali e io vi do appuntamento a domani alle 7 sempre per la rassegna stampa di Fano TV grazie per l'ascolto a risentirci